Con questa manovra la persona, l'aggressore, andrà a terra perché io spingerò la testa a terra fuori dalla base dei piedi, cioè guardate un attimo. Se io applico pressione qui e metto una forza sulla testa verso il basso, Arianna non cadrà, semmai sentirà un po' comprimere le vertebre, non cadrà perché questa mia pressione è tenuta dalle gambe, ma lei lo sosterrebbe. Se in questo caso io applico sempre una forza verticale, capite bene che questa forza che ha questa direzione, voi sapete ogni vettore ha un'intensità e una direzione e un verso, ha questa direzione, vedete che cade qui, cioè fuori della base. Se io premessi ancora su questo punto, ok, lei non cadrebbe perché scaricherà ancora sui piedi, ma siccome adesso io premerò qui, è chiaro che qui sotto non c'è più la base e è ovvio che non mi serva così tanta forza per mandarla giù. Cioè è un fatto biomeccanico. Quello che dobbiamo vedere è come posso portare una persona da questa postura a questa postura finale. Allora, dovrò applicare una spinta che ha una componente per forza orizzontale, perché tra la testa che è qui e la testa che adesso è di qua, abbiamo visto che è avvenuta una traslazione, cioè la testa non è più dove era prima, e una rotazione. Il tipo di energia che io devo imprimere dovrà indurre la testa a spostarsi e a ruotare. E qui ho un fatto di sensibilità, cioè dovrò spingere prima in maniera puramente orizzontale, perché la spinta verso il basso abbiamo detto che non ci fa ottenere niente. E poi non continuare solo orizzontale. Se io la vado a spingere si sposta. O se andasse veramente in estensione, io poi perderei la presa. Io farei così e andrei fuori, perché nel momento in cui la testa va in estensione io passo. Quindi che cosa succede? Dovrò iniziare con un'applicazione di forza parallela al terreno. Pian piano ruotare in maniera tale che poi dopo cambio sempre più direzione a questa forza, faccio ruotarla di 90 gradi fino a che punta, per averte verso il basso. Farò una curva e la posso fare in tante direzioni. Con questa mano stando avanti come ho fatto con Luca, la posso fare se capito di qua, sempre con lo stesso principio. Adesso è inutile che ogni volta vada a terra. Da dietro tiro a me e poi spingo in basso. Posso fare da quest'altra parte, mi aiuto col gomito, tiro e porto in basso. Di lato, vado e porto in basso. Posso fare da questa parte, vado e porto in basso. Se voi applicaste la vostra forza sul mento, mettiamo qua ci fosse un vincolo, una resistenza, qui invece non ci sarebbe una rotazione. Allora dovrei, se applico dal basso, andare un po' prima verso l'alto, 45 gradi. Allora a questo punto, pur applicando sul mento, posso andare orizzontale. Quindi da qui sono andato a 45 gradi verso l'alto. Ho applicato una forza che è a questa direzione. Da qui posso applicare una forza che è a questa direzione. Ora posso applicarne una che è a questa direzione. Vai un po' verso l'alto e poi diri giù. Cioè io devo avere questo angolo finale. Come lo ottengo è indifferente. Mi viene in mente, per esempio, che io posso fare anche questo e venire giù. Ok? Se colpisco con le nocche, cioè a pugno chiuso, il pugno deve essere serrato al massimo. Non posso colpire con 27 ossa della mano se non è stretta al massimo. Gianluca, stai perdendo da aggressività. Voglio vedere una faccia da guerriero. Forza, aggressivo. Diamo il massimo. Vuoi imparare a difenderti da aggressioni e prepotenze? Sono Danilo Capuzzi, il presidente della famosa Otsuka Club. Ho lavorato nella sicurezza per ben 11 anni. E sono famoso perché per strada mi sono difeso decine di volte. Vuoi imparare a farlo anche tu? Fai una prova gratis con me. Unisciti ai miei studenti. Clicca il link che trovi nei commenti. Grazie a tutti.